Signori Voyagers, film del 2021 con Johnny Depp, sì con Johnny Depp, volevo dire che c'è la figlia di Johnny Depp e con Colin Farrell, non è brutto, gli darei un 8 o meno, 7.9, anche perché ho un po' abbassato i voti, però il film è bello, è assolutamente non prevedibile, almeno molte cose che ho detto succederà così e così sarà la solita cagata, invece no, oddio non è specialissimo, ma è ai livelli di Passengers, un po' meglio e un po' più interessante, ci sono tanti aspetti che mi sono piaciuti veramente e basta così, al momento è su Nao o su Sky che sia e probabilmente arriverà dalle altre parti, poi vi lascerò al solito link, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like, ciao ciao!